Siamo più di 200.000 lavoratori intermittenti che lavorano nel mondo dello spettacolo. Dal 23 febbraio non ci sono più eventi. Come tutti i lavoratori abbiamo pagato le tasse e versato i contributi. Ma nei decreti che tutelano chi ha perso il lavoro, si sono dimenticati di noi. Nessuno escluso. 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 Nessuno escluso!